Allora, siccome sto per fare una cosa bruttissima perché siete dell'uniti bastardi, siccome mi voglio così bene, mi voglio far vedere il mio affetto, per questa cosa ho bisogno di sostegno. Non ho potuto chiamare i paramedici, ma ho potuto portare queste cose bellissime. Ottime patatine associate a una panna spray. Buonissima. Assicurata all'Energate, perché ogni attività fisica ha bisogno dell'Energate. Alla Nutella, agli mancabili panini di bicherni, al cioccolato, al cioccolato al latte, uvette e nocciole, che sarà una cosa buonissima. E in ultima la mousse alla mela, questo è il top. E poi adesso è l'acqua. Poi suggerisco che appunto un accostamento alimentare, la patatina con la croccantezza e la panna, è buonissima. Spero che il video vi piaccia, non vi resta che auguravi buona visione, bastardi. Here we go! Benvenuti in questo nuovo video, in questo video fuck. Sto per fare una cosa bruttissima per me, ma bellissima per voi, perché oggi diventerò il vostro criceto personale, perché risponderò a ogni domanda correndo su questo tappeto. Guarda. Ecco. Non faccio attività fisica da almeno più di un anno, quindi infatti vedete qua, è un po' bello. Allora, cominciamo subito, quindi quick start. Aumenteremo di 0,3 a ogni domanda, fino a quando lo scatterò. Allora, Maria Chiara Dipinto mi dice, riesci a leccarti il gomito PSU Bigherni Ermenio? Proviamo. No, non ce la faccio. E aumentiamo di 0,3. No, 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 è andata ok. Giorgio Acuto li farà ricrescere la barba, vero? Vero? E Giorgio è cresciuta, vedi? Di 0,3. L'altra domanda. Carmine Spera. Che personaggio della serie Dragon Ball ti senti? Si direbbe Majin Bu. Ma io direi Girobai. Allora, siccome sono pazzo, metto già a 2,3. Qua dovrei perdere 146 kcal all'ora. Quindi non so quanto ne dovrei perdere per diventare magro e figo. Aumentiamo di 0,5. Sono arrivato già a 3. Forse ho già esagerato, perché sto già cominciando a respirare fondosamente. E Silvia Uccer de Salvia mi dice, se ti invitassi a cena della mia nonna, che di solito cucina per 20 persone, anche se ce ne sono solo due, per resti, come no, invitami, anzi, ti do subito l'indirizzo. Però siccome ho fame, chiedo alla regia subito un supporto tecnico, vedi? Oh, non vedi a me. Flavio Mastrorino, ti andrebbe di accoppare Francesco Sole andando al gabbio al mio posto? Caro Flavio, io andrei volentieri al gabbio, soprattutto insieme a Fema, peraltro i reati. Andasse a cagare lui, tu si che vale. Aumentiamo. 3,9. Aumento e ho pure fame. Ci guarda. Allora, la donna buco. Ecco. E' stifo. E' scena la Nutella. Andiamo avanti. Se ho manso meglio, perché è potutissimo milo bianco e nero? Non ho aumentato. Non lo so perché è milo, perché sono razzisti. Quando è stato la tua prima sbordia? Non lo so se mi sono mai ubriacato nella mia vita. Comentiamo. Allora, siamo a 5 e 4. Adesso è già morto. Possiamo fare un'altra cosa, no? Non va bene. Ma io ho aumentato la velocità. Allora, Whatsapp Marta. Bigerni, una canzone, una sigla che ha segnato la tua infanzia. Allora, Kachemoon, Pokémon, vive Pokémon, Kachemoon. Non risponderò bene a ogni domanda perché sto veramente soffrendo. Fucklogic. Mi chiede, perché hai deciso di aprire un canale tutto tuo se hai già fatto dei miei cinque? C'è qualche un grande. Perché volevo provare a far vedere al mondo quanto fosse bello essere obesi. Quanto fosse bello mangiare le schifezze. Allora, non mi piace. Bigerni, scrivi il mio canale. Su, con glamo. Metal, Pluto, quattro, ti dice Bigerni, mangi qualcosa di schifoso. Lo sto facendo da inizio video. La mossa alla mela. Le giri al di passi in una patatina, subito. Tutte. No, una. Buona. Ecco un pezzo di cioccolato. Ce la faccio. Dai, un altro pezzetto. No! E sto morso. No! Oh, questo è il Bigerni. Che toccantaggio mi ha ferito. Io gli ultimi. E' presto. O me ne andiamo. Eroina 60. Ciao, per mezzo. Come è partito? Io ti fa partire il Frenchman. Ho vomito. Sono stato chiamato per fare un video. e mo' sono come un Frenchman. Pantissimo. Dimentiamo. 8,1! Offici al vale. Se ti entro un altro in casa, che fai? Io offro da mangiare. Cristian, mi chiede, fai la versione, mangiare panini di rocchi. Eroina 60. Dai, dai, dai. Dai, dai. Mi chiede. Puoi fare il gameplay? Sì! Bernie! Pure io il gameplay! Perché oggi i vegetariani mi chiedono, no? Ti prego. Perché sono dei... degli ignoranti. La cassa... La cassa nei serbi. No. Ho vomito, ragazzi. Pantissimo. Michele! Michele! Michele, Michele! Guardi! Guardi che vedi carico! Marchi! Non lo so! Ti faccio i cavareggi? Sì! Fai un video. Senza barbe, con una barrucca. Allora! Allora! come andiamo ce l'ho fatto ho perso 20 kg e voi se il video vi è piaciuto se il video vi è piaciuto mettete mi piace condividete e iscrivetevi al canale questo è il panino questo è il bigherni prendete il pane e lo spezzo per tutti voi ciao come se avessi venuto 40 litri di vino mangiate mangiate vaffanculo la forma fisica ok ciao